Buone notizie per quanto riguarda i tre tamponi di cui attendevamo l'esito relativi alla catena dei contatti di Petrizzo. L'Asla, Dipartimento di Prevenzione, mi ha fatto sapere che sono risultati tutti negativi. A comunicarlo in una nota stampa il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Nel contempo, continua il sindaco Coppola, sono stato informato dalla stessa Asla di un altro caso positivo registrato ad Agropoli. Si tratta per la verità di una persona di Cava dei Tirreni, arrivata nella nostra città il 13 marzo scorso presso la fidanzata, nostra concittadina. Individuato lo abbiamo posto in isolamento. Nel giro di qualche giorno gli è sopraggiunta la febbre che però stentava a passare del tutto. Così l'Asla, prima che terminasse il periodo di isolamento, ha disposto per lui il tampone. Nelle scorse ore è giunto l'esito, purtroppo positivo. Nella giornata odierna il tampone verrà effettuato anche alla fidanzata, unica persona presente nella sua catena dei contatti. Con lui in quarantena dall'inizio, anche la catena dei contatti della donna risulta ristritta al solo fidanzato.